Ripartirà lunedì il presidio dei sindacati e dei lavoratori davanti ai cancelli dell'ITR. CGL e Cisle Will hanno giudicato deludenti i risultati del tavolo tecnico organizzato dal comune di Sernia e chiedono un immediato confronto con i vertici societari per capire cosa accadrà nei prossimi giorni. La gente è esasperata, senza stipendio e senza speranze, con un futuro che si annuncia come minimo problematico. Amico Antonelli della Will ha intanto chiesto che la proprietà, in attesa di tutte le formalità collegate al concordato, eroghi immediatamente almeno un acconto sulle spettanze dovute. Ci sono famiglie allo stremo che non hanno neanche i soldi con cui fare la spesa e mangiare. La situazione è d'allarme rosso, intanto Brasiello ha reso noto che un nuovo tavolo tecnico è stato convocato per il 5 novembre a Roma, mentre il sottosegretario De Camillis ha comunicato la disponibilità di fondi per lo sviluppo che potrebbero essere destinati all'ITR. Ma questi sono discorsi di là da venire che non servono a sbarcare il lunario e dar da mangiare alle famiglie dei 700 dipendenti dell'ITR. Intanto si avvicina la fatidica data del 31 ottobre. Entro quel giorno Bianchi dovrebbe pagare la seconda rata dell'acquisto dell'ITR. Se non lo farà, l'azienda diventerà automaticamente della regione, in virtù della fiduzione da 12 milioni prestata in favore dell'imprenditore Comasco. Una data decisiva e mancano solo cinque giorni, ma sentiamo su questo l'assessore Petra Roia e Vittorio Monaco, ex portavoce dei fasonisti, esponente Isernino di 5 Stelle. Ma io mi auguro che non esistano date di non ritorno. Mi pare che nonostante le difficoltà anche altre vicende come la gamma, la fondazione, stiamo per fortuna dei lavoratori del territorio, stiamo cercando di riorientarle in termini positivi. La regione sicuramente farà la propria parte e non si sottrarrà. La vicenda nello specifico, lo dico per onestà e correttezza, la sta seguendo il collega Scarabeo a cui compete per delega e la sta seguendo direttamente il Presidente della Giunta. Ma l'intera amministrazione, devo esprimere un apprezzamento per l'intero Consiglio regionale, perché tutte le forze politiche, centrodestra, Movimento 5 Stelle, non hanno fatto mancare il loro apporto, il loro aiuto, il loro intervento in favore di una soluzione positiva dall'avvertenza ITR. Beh, gli scenari che sembrano più plausibili sono quelli di un mancato pagamento della prima rata da parte di ITR e questo potrebbe far scattare intanto da una parte la richiesta da parte dei commissari della fiduzione dalla Regione Molise. Dall'altro canto, questo è ancora da verificare i termini precisi, potrebbe far rientrare la Regione Molise stessa nel capitale sociale dell'azienda con una quota pari al 51%. Per cui ci troveremo ancora una volta alla Regione far parte del capitale sociale di un'azienda e a questo punto dovremo vedere quali saranno gli scenari e soprattutto i progetti che ha la Regione Molise rispetto alla continuità aziendale di questa azienda. Grazie.